La nostra prima volontaria ha una forma del viso regolare, ha una carnagione media e ha degli occhiai abbastanza pronunciate. Oggi le faremo un trucco per correggere le imperfezioni. Come prima cosa le applicheremo una crema idratante perché ha la pelle un po' secca. Adesso le applicheremo un correttore aranciato per attutire il colore degli occhiai. Il prossimo passo da fare è quello di applicare un fondotinta liquido perché ha la pelle secca. Lo applichiamo picchiettandolo in modo tale che il fondotinta non si sfarga sulle guance. Fissiamo il fondotinta e il correttore con una cipria. Adesso ci concentreremo su gli occhi applicando due tonalità di marrone, un beige e un marrone opaco. Il beige lo utilizziamo sulla palpebra mobile, nella parte interna, mentre invece nella parte esterna metteremo quello marrone e matto. Sfumiamo il tutto con un pennello e in modo da omogenizzare l'ombretto. Il prossimo step è applicare una matita nera solo nell'arima inferiore dell'occhio. Completiamo il trucco sugli occhi applicando un rimel nero così da rendere più intenso lo spazio. Come ultimo step applichiamo un blush sulle guance nelle stesse nuance degli ombretti, quindi sempre sui colori della terra. Lasceremo le labbra abbastanza neutre in quanto siamo in seduta d'esame applicando un labbello lucido. Et voilà! Il trucco per la nostra prima volontaria è finito e lei è prontissima per sostenere un esame. Come si dice, mente sano incorpore sano, anche l'occhio vuole la sua parte.